E' ufficiale, il frio di Venezia Giulia resta in giallo, zona arancione evitata di poco, ma se non ci sarà un'inversione di tendenza dei numeri, il cambio di colore sarà inevitabile, il 24 dall'inizio pandemia superati i 200.000 positivi. L'obbligo di certificazione verde è rafforzato, ha fatto diminuire del 60% le presenze nelle palestre e nelle piscine, con il raddoppio dei costi e delle bollette c'è chi sta pensando di chiudere. La peste suina africana fa paura, la regione Federcaccia punta alla prevenzione, per il presente viezzi bisogna eradicare il cinghiale nelle zone vicine agli allevamenti suini, si attende e vi libera la caccia di selezione. Adottati durante il lockdown e adesso restituiti, i cani non sono più pretesto per poter uscire da casa, con il raddoppio occidentale il 30% degli animali in cerca di un nuovo padrone. Passo indietro della medicina sportiva, ritorna l'incubo della visita per i positivi a 30 giorni, per le società del mondo di direttanti si prospettano enormi difficoltà per la prosecuzione dei campionati. Buonasera, ben ritrovati al nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. E' dunque arrivata l'ufficialità, il Friuli Venezia Giulia resta in giallo. Alla luce del flusso dei dati dell'ultimo monitoraggio, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che porterà la campagna in giallo e la Valle d'Aosta in arancione. La nostra regione ha evitato per poco il cambio di colore, ma se non ci saranno inversioni di tendenza nei dati, dal 24 gennaio potrebbe scattare il passaggio in arancione anche per il Friuli Venezia Giulia. Fino a domenica, il 23 gennaio, intanto, resteranno in vigore le restrizioni previste fino ad oggi. Tutta l'Italia è caratterizzata da un'alta incidenza dei contagi, prevalenza stimata dell'81% Omicron, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano. La fascia d'età più colpita dall'infezione è quella dei ventenni, seguita dalle fasce 10, 19 e 30, 39. Tra le novità emerse, il passaggio in zona arancione dal lunedì 17 gennaio della Valle d'Aosta e in zona gialla della Campania. E dall'inizio della pandemia sono più di 200 mila le persone risultate positive al Covid in Friuli Venezia Giulia. La soglia è stata superata con i contagiati nelle ultime 24 ore, sono 4.584. Le persone attualmente positive in isolamento sono oltre 44.600. Su 11.605 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.769 nuovi contagi con una percentuale di positività del 15,24%. Su 19.526 test rapidi antigenici realizzati sono emersi 2.815 casi, il 14,42%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono salite a 44, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono saliti a 369. Oggi si contano anche 12 vittime con Covid, hanno tra i 72 e i 95 anni. Tra i dipendenti del servizio sanitario regionale sono state riscontrate 66 positività, mentre sono 57 quelle rilevate nelle residenze per anziani, tra operatori e ospiti. E tra i nuovi positivi in regione c'è anche il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Lo ha fatto sapere lui stesso su Facebook. Ieri pomeriggio ha avuto l'esito del tampone, fatto precauzionalmente da risultato positivo, così come quello di mia moglie. Avevo accusato sintomi lievi sabato scorso, sto benissimo, aggiunge, voglio essere subito molto chiaro e diretto. Se si sta risolvendo in questi termini è solo grazie alle tre vaccinazioni che mi sono sottoposto. E non voglio pensare a cosa sarebbe potuto succedere se non le avessi fatte. Come ho detto più volte, conclude il sindaco Ziberna, il vaccino funziona un po' come un giubbotto antiproiettile. Non ti impedisce di essere colpito, ma se lo sei ti salva la vita. Lavorare in ambulatorio è allucinante a causa del lavoro che cresce in continuazione e in questi giorni in accelerazione. Il grido d'allarme lanciato dal presidente dell'ordine dei medici di base, Gianluigi Tiberio, che segnala i medici di famiglia stanno scoppiando. I medici di base sono ormai allo stremo, non ce la fanno più a reggere il carico di lavoro che è in continuo crescendo e ultimamente in accelerazione. Sto ricevendo segnalazioni da parte dei colleghi in grave difficoltà e che chiedono il nostro aiuto, segnala il presidente dell'ordine dei medici di Udine, Gianluigi Tiberio, evidenziando che la situazione sta diventando insostenibile. «Lavorare in ambulatorio è allucinante», continua Tiberio, riferendosi all'esperienza personale di medico di famiglia. Il telefono comincia a squillare a oltranza a partire dalle 7 del mattino. Fino a qualche giorno fa era sempre occupato, ma si riusciva in qualche modo a rispondere. Ora la situazione è davvero ingestibile per dare risposte alle persone a causa dell'ingessamento burocratico legato alla problematica delle quarantene, delle persone contagiate e con scarsi sintomi che devono ottenere dal Dipartimento di Prevenzione il certificato di isolamento. I medici di famiglia, continua il presidente dell'ordine, hanno dato la loro disponibilità ad aiutare il Dipartimento nei tracciamenti, come sta accadendo nel vicino Veneto, ma al momento non hanno ricevuto risposte. Il superlavoro induce a decidere di abbandonare definitivamente l'ambulatorio appena possibile. Il fenomeno, conclude Tiberio, che dovremmo cercare d'arginare, tanto più che nel giro di 3-4 anni almeno il 40% dei medici di famiglia della regione andrà in pensione. E gli ambulatori dei pediatri sono in affanno. Oltre a ricevere mediamente 2-3 segnalazioni al giorno di nuovi contagi, i pediatri sono sottoposti a fuoco di fila per dispensare informazioni sui comportamenti da adottare per le quarantene. In Friuli Venezia Giulia aumenta in maniera significativa il numero dei bambini contagiati dal Covid. Solo nel mio ambulatorio, segnala Paolo Lubrano, segretario regionale della Federazione Italiana Pediatri, ricevo almeno due o tre segnalazioni al giorno. Fortunatamente la situazione è poco pesante dal punto di vista delle complicanze che rimangono infrequentemente importanti, commenta ancora Lubrano, sottolineando che con il numero di contagi in aumento è diventato difficile fare i tracciamenti. Il problema è soprattutto riuscire a dare risposte adeguate alle necessità delle famiglie che in questo momento hanno bisogno di avere un supporto conoscitivo, continua Lubrano. Anche gli ambulatori pediatrici ricevono richieste di spiegazioni su cosa fare quando si scopre di essere positivi. Oltre a svolgere il loro compito, fare diagnosi, prescrivere terapie e dare consigli per la salute, ora i pediatri sono diventati punto di riferimento per quarantene, per analizzare le singole situazioni e suggerire comportamenti da adottare. Non è facile destreggiarsi tra una richiesta e l'altra, conclude Lubrano, perché le telefonate sono continue e ognuno ha indicazioni diverse in base al tipo di scuola che frequenta. Scattato da lunedì l'obbligo della certificazione verde rafforzata ha portato un meno di 60% di presenza nelle palestre e nelle piscine e con il raddoppio dei costi di gas e luce c'è chi starebbe pensando di chiudere gli impianti e così gli operatori del settore chiedono aiuto alla politica. Palestre e piscine in difficoltà e alcune a rischio chiusura anche per l'obbligo del Super Green Pass. Scattato da lunedì l'obbligo della certificazione verde rafforzata ha portato un meno di 60% di presenze, tagliando una grossa feta di atleti alla possibilità di fare attività fisica. Ma anche chi è vaccinato, complice l'aumento dei contagi dell'ultimo periodo, non si sente sicuro e rinuncia alla palestra. A questo si uniscono i problemi economici per un comparto che oltre a far fronte alla riduzione delle presenze deve anche fare i conti con un aumento esponenziale dell'energia. C'è chi starebbe pensando di chiudere per qualche mese gli impianti natatori perché è più costoso tenerli aperti con un numero basso di iscritti e spese in continuamento, come conferma Roberto Bolelli, delegato regionale dell'Associazione Nazionale Impianti Sport e Fitness. Gas e energia elettrica incidono infatti per oltre il 50% sui costi di gestione, a fronte del 40% di iscritti. Un allarme che costringe ai gestori a chiedere aiuto alla politica con sostegni economici. Dello stesso avviso Alessandro Dreina, vicepresidente lui nel nuoto Friuli, di solito dopo le feste si assiste a un vero boom di iscrizioni, commenta, ma la paura dei contagi ha portato a una diminuzione delle presenze anche tra vaccinati. La peste suina africana fa paura. In regione Federcaccia punta alla prevenzione. Per il presente viezzi bisogna battere cinghiale nelle zone vicine agli allevamenti di suini e si attende il via libra alla caccia di selezione. Al momento in Friuli Venezia Giulia non si segnalano focolai di peste suina africana, il contagioso virus che colpisce suini e cinghiali riscontrato in alcune regioni italiane, tra le quali Piemonte e Liguria, dove per frenarne la diffusione sono vietate la caccia, la raccolta di funghi e tartufi, la pesca, il trekking e la mountain bike. Ed è segnalata la massima allerta anche in Emilia Romagna, Lombardia e Toscana. In Friuli Venezia Giulia abbiamo gettato le basi per un intervento tempestivo per arginare l'eventuale diffusione del virus, spiega il presidente di Federcaccia Paolo Viezzi, sapendo che portatori della malattia sono gli animali selvatici, che se colpiti dall'infezione muoiono nel 98% dei casi. Per bloccare il virus è necessario l'abbattimento di tutti i suini nel raggio di 50 km dal punto di infezione. Federcaccia tende di avere via libera dalla regione per poter intervenire sul territorio attraverso la caccia di selezione da postazioni fisse. È indispensabile, secondo Viezzi, l'eradicazione del cinghiale in tutte le zone contigue agli allevamenti di maiali. Federcaccia ha già attivato per conto proprio interventi di controllo e monitoraggio delle carcasse rinvenute morte, in attesa che la regione dia indicazioni precise sulle azioni possibili con il coinvolgimento dei cacciatori. Non basta l'esplosione dei contagi nel friulio occidentale, il comune di Pordenone deve fare i conti anche con i costi che li evitano per il caro energia e il balzo delle materie prime che fanno schizzare le spese per i cantieri. Il sindaco Ciriani richiama Governo ed Europa e nel contempo manda un messaggio alla regione. Su Asfo, ora di voltare pagina. Da una parte la pandemia che preme sempre più sul friulio occidentale, dall'altra il caro energia che fa schizzare i costi. E' una mannaia per il comune di Pordenone che ha in piedi molti cantieri e si trova con spese inaspettate. Da un lato il comune è ricco di finanziamenti sugli investimenti, quindi sulle opere che andranno avanti progressivamente, pandemia permettendo che ovviamente comporta dei ralentamenti. Però ci sono degli impatti negativi legati, uno, all'esplosione dei costi energetici, le bollette che impattano sulle aziende, sulle famiglie, ma anche sugli enti locali come Pordenone. Quindi chi ha più opere da fare ha un impatto dal punto di vista energetico e del reperimento dei costi delle materie prime. Dall'altro direi la comunità, perché tutti parlano di rilancio economico, però da un lato abbiamo appunto questa esplosione dei costi energetici che si abbatte pesantemente anche sul sistema industriale, rispetto al quale Governo e Europa stanno facendo veramente una brutta figura, sia dal punto di vista del provvigionamento, sia dal punto di vista di una politica energetica che consente di uscire da questo tunnel pesantissimo e che pare non avere fine. Guardando la pandemia e in particolare la sua gestione, Ciriani ribadisce che ai vertici dell'azienda sanitaria serve un cambio di passo. È evidente che non è un problema tanto organizzativo ed economico, è un problema di relazioni. Il direttore Polimene ha dimostrato di non essere in grado di poter tessere relazioni fruttuose con tutti questi soggetti, dagli enti locali fino a chi opera all'interno dell'ospedale. Quindi nessuno mette in dubbio la sua competenza, ma evidentemente la sua competenza non è sufficiente per poter recepire quali sono le reali necessità della struttura sanitaria e sociale del nostro territorio. Quindi adesso abbiamo l'atto aziendale. L'atto aziendale verrà sicuramente emendato e modificato secondo le indicazioni, tanto dei capi di partimento quanto di chi opera in distretti, quindi sul territorio. Dopodiché direi che si può anche voltare pagina. I sindacati dei pensionati contro il riordino della sanità regionale. Secondo CGL e Cisle Will, le scelte per rafforzare servizi territoriali non vanno nella direzione tratteggiata a livello nazionale. Atti aziendali che vanno in controtendenza rispetto ai piani nazionali, dove è prevista una valorizzazione del territorio. E poi c'è l'ASUFC, su cui vige il mistero. SPI CGL, FNP Cisle e Will pensionati vanno all'attacco della visione della nuova sanità che sta nascendo con gli atti aziendali nel mirino, in particolare quello di Trieste. Sì, direi che i problemi ci sono, sono seri. Nonostante il blackout e la pandemia, e questi atti aziendali dovevano arrivare fuori quasi due anni fa praticamente, rispetto alle tabelle di marcia della legge regionale, diciamo che ci sono moltissime contraddizioni che però, va detto con grande chiarezza, riportano alle disposizioni della legge regionale. Poi certamente ci sono scelte che fanno i singoli direttori generali, probabilmente non avvedute nel territorio 1 o nel territorio 2, però certamente c'è un problema della nuova impostazione che riguarda il riordino della sanità regionale. Questo si scatena soprattutto nella dimensione territoriale, perché c'è una grande contraddizione che, mentre c'è una discussione nazionale e sulla base dell'esperienza della pandemia, dice che bisogna rafforzare molto i servizi operativi territoriali, non abbiamo la sensazione che questo stia avvenendo in regione. Le notizie di Cronaca, la PM Maddalena Kergia, titolare dell'inchiesta sulla scomparsa di Liliana Resinovic, ha firmato il nulla a osta con il quale autorizza il seppellimento del corpo. Secondo quanto sia preso, i funerali si svolgeranno in forma privata, ma non è stata ancora indicata una data. Grave infortunio sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Cervignano del Friuli, un operaio è stato travolto da un blocco di marmo di 150 kg, stava lavorando in una ditta che opera nel settore della pietra. L'uomo, colpito alle gambe, è stato soccorso dal personale sanitario e dal vigile del fuoco di Cervignano per poi essere trasportato in ospedale. Ma allora è fatale questo pomeriggio per una donna di 83 anni del posto, che mentre si stava recando negli uffici postali di Butrio, si è accasciata improvvisamente a terra, perdendo conoscenza. A dare l'allarme, chiamando il 112, sono state le persone che si trovavano con lei in quel momento e anche il personale dell'ufficio postale. All'arrivo dell'equipaggio di un'ambulanza, la donna era incosciente, inutili purtroppo i tentativi di rianimazione sul posto della polizia locale dell'Uti del Cividalese. Ad Azzano decimo, scontro frontale questa mattina per causa del vaglio dei carabinieri del radiomobile di Pordenone lungo la strada regionale 251. Ad entrare in collisione sono stati un furgone in auto articolato. Pare che il conducente del primo veicolo abbia percorso la rotatoria a contromano. Ferito in maniera seria è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria degli Angeli. Prima adottati, adesso restituiti, i cani non sono più un pretesto per poter uscire di casa. Così nel friulio occidentale il 30% di loro è già in ricerca di un nuovo padrone. Durante il lockdown c'era stata una vera e propria gara per adottarli. Ora che le restrizioni imposte sono soltanto un ricordo e che avere un cane non costituisce più un pretesto per poter uscire da casa, il 30% dei quattro zampe prelevati dai vari canili della destra tagliamento e già in cerca di un nuovo padrone. Le adozioni non sono state adozioni consapevoli, sono state adozioni per comodo e che purtroppo la gente non ha capito l'importanza di dare una casa, una famiglia ad un cane e del male che fa questo cane riportandolo in un canile o restituendolo a chi gliel'aveva dato in adozione. Restituito esattamente come si fa per un capo di abbigliamento difettato, spesso con scuse poco attendibili. Il cane mi è ostile, il cane ho paura che mi morda, ho delle allergie. È chiaro che un cane che percepisce di non essere più amato e voluto in una famiglia instaura dei comportamenti probabilmente oppositivi, ma non è colpa del cane. Furto di un ecocardiografo nuovo del valore di circa 20.000 euro dagli ambulatori del presidio ospedaliero di Cividale ad accorgersi che l'importante strumento diagnostico era stato sottratto, sono stati i responsabili dell'area sanitaria. Ladri hanno forzato una porta e senza essere visti hanno smontato velocemente il macchinario per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce, indagano i carabinieri. Ladri Acrobati invece ieri erano in azione a Udine tra via Gaeta e via San Rocco, uno o più malviventi. Evidentemente professionisti del furto si sono introdotti in alcune abitazioni private nella zona ovest della città senza lasciare impronte o tracce. Indaga la Polizia di Stato, giunta sul posto dopo le chiamate ricevute dalle vittime delle intrusioni, fortunatamente si segnalano a manchi di poche centinaia di euro e pochissimi danni. I topi di appartamento hanno agito con estrema velocità nonostante la luce del giorno. Diverse le case a soquadro lasciati sul posto però computer, macchine fotografiche, e altra apparecchiatura elettronica di valore, il criminale infatti era una ricerca solo di contanti o monili. Cinque imprese della destra a tagliamento sono alla ricerca di personale specializzato. Si tratta di almeno 170 nuovi posti di lavoro con diversi profili tra tecnici, manutentori e ingegneri ambientali. Cinque aziende della destra a tagliamento offrono 171 posti di lavoro ma è difficile trovare le figure professionali delle quali hanno bisogno. Il Recruiting Day organizzato dalla Regione in collaborazione con l'Agenzia Interinale ADECO e le aziende interessate in programma il 15 e il 16 febbraio ha lo scopo di incrociare l'offerta e la richiesta di lavoro. 171 persone, figure che servono a cinque aziende del Pordenonese. È una formula collaudata da molti anni che in realtà sta ottenendo dei buonissimi risultati, soprattutto negli ultimi due anni. Mettere insieme i dati dei nostri centri per l'impiego, le richieste da parte delle aziende, significa dare una risposta anche rispetto a quelle che sono le esigenze del tessuto produttivo del nostro territorio, anche in termini di formazione e anche in termini di richieste necessarie per procedere ovviamente con la produzione. La novità di questa formula è quello di mettere assieme tutti i soggetti che fanno incrocio tra domande ed offerta. I posti a disposizione riguardano soprattutto specializzazioni tecniche, dall'operatore di robot all'ingegnere ambientale, dal manutentore meccanico ed elettrico al programmatore informatico. Sulla 4 proseguono i lavori per la realizzazione della terza corsia sul versante Veneto. Nella fine settimana verrà finalmente aperto al traffico il nuovo cavalcavia del nodo di Porto Riguaro. Quello vecchio invece sarà demolito nei prossimi giorni. Si tratta dell'opera più importante, del primo sublotto, del secondo lotto al Visopoli-Porto Riguaro, ovvero un tratto lungo 9 km che prevede la costruzione di 8 sottopassi, 8 scatolari, 5 cavalcavia e 3 punti. Il nuovo cavalcavia del nodo di Porto Riguaro è stato costruito su tre travi ed è a due careggiate. Per far sì che l'opera diventi fruibile al passaggio di auto e mezzi pesanti è prevista la chiusura al traffico di alcuni punti dell'autostrada per molte ore. A partire dalle 19 di sabato, 15 gennaio, fino alle 21 di domenica 16, chi proviene dall'A28 e diretto a Trieste potrà uscire allo svincolo di Porto Riguaro e utilizzare gli itinerari alternativi. Chi percorre l'A4 proveniendo da Venezia ed è diretto verso l'A28 in direzione Conegliano potrà uscire al casello di Sanstino di Livenza. Zone 30 e più attenzione per ciclisti e pedoni. Da mercoledì 19 gennaio partirà la riqualificazione del quartiere di Rorai Grande a Pordenone. Parte a Pordenone la riqualificazione del borgo storico di Rorai Grande. I lavori avranno inizio il 19 gennaio e la durata prevista del cantiere è di circa 8 mesi per le opere principali ed ulteriori 60 giorni per le finiture come segnaletica, arredo e verde. Il progetto è stato presentato oggi dall'amministrazione comunale. Si tratta della strada che è antistante alla chiesa di San Lorenzo dove faremo nuovi marciapiedi, dove andremo a riqualificare la strada creando zone 30, un rallentamento dei veicoli che è la segnalazione che ci arriva sempre più spesso da parte dei residenti e soprattutto renderemo possibili i collegamenti a piedi, in bicicletta da parte degli studenti verso il complesso scolastico, la palestra che si trova in via maggiore. L'importo è di 550 mila euro, è un intervento che prevede anche la realizzazione ovviamente della predisposizione alla fibra ottica e l'illuminazione pubblica in modo tale da garantire anche in questo modo la sicurezza del borgo. Nelle diverse fasi dei lavori, che inizieranno dall'incrocio con via Chiesa di Rorai la circolazione verrà mantenuta aperta con senso unico alternato regolamentato in base alle singole fasi dei cantieri e con eventuali e puntuali deviazioni, in particolare dei mezzi pesanti comprese le due linee dell'autobus. Dopo due anni di stop, la prossima settimana ripartirà nel capoluogo Frulano un laboratorio molto particolare, si chiama Dance Park ed è un progetto riabilitativo sostenuto dal comune di Udine che unisce due mondi, ovvero la danza e la malattia di Parkinson. Affrontare il Parkinson cercando di migliorare l'equilibrio tra il corpo e la mente. A Udine, martedì 18 gennaio, dopo lo stop imposto dal Covid ripartiranno le lezioni di Dance Park, il laboratorio gratuito pensato per aiutare le persone che devono affrontare le problematiche causate dalla malattia neurodegenerativa. L'attività fisica è assolutamente necessaria per il contrasto a questa malattia neurodegenerativa in particolare agisce sulla neuroplasticità cerebrale e non solo ma agisce a livello fisico, sulla postura, l'equilibrio, sul passo e sulla forza e agisce però anche a altri livelli. Si tratta di un percorso riabilitativo già presente in molte regioni d'Italia e che, tanto per fare un esempio, viene già offerto dal servizio sanitario di molti paesi nord-europei. Le lezioni tenteranno di colmare la già grave carenza di percorsi riabilitativi rivolti ai malati di Parkinson e acuita negli ultimi due anni a causa della pandemia. Una mancanza grave perché con patologie come quelle della sindrome extra-piramidale meno attività si seguono più aumenta il rischio della progressione disabilitante. Festeggerà 100 anni il prossimo 22 gennaio la scuola mosaicisti di Spilimbergo, l'unica al mondo in cui ci si diploma maestri mosaicisti. Per celebrare il compleanno è stata esposta in consiglio regionale a un'opera realizzata dagli studenti della scuola. Avere 100 anni è dimostrarli tutti, non come una vecchia signora vizzita, bensì come una realtà che ha saputo evolversi e in un secolo di vita ha fatto tanta strada, dapprima superando i confini regionali, poi quelli nazionali ed europei, fino ad arrivare oltreoceano. È la scuola mosaicisti di Spilimbergo che il 22 gennaio spegne 100 candeline e che come primo evento per questa ricorrenza ha deciso di esporre in consiglio regionale a Trieste un'opera eseguita da alcuni allievi del terzo anno nel 2013. Iniziano con questa collocazione di un'opera museale all'interno del consiglio regionale i festeggiamenti per i 100 anni della fondazione della scuola mosaicisti di Spilimbergo. È un forte legame con un territorio che ha espresso capacità artistiche, che ha esportato qualità e bellezza nel mondo e che adesso sta attirando dal mondo personaggi formati che vogliono ulteriormente impegnarsi nell'arte del mosaico. È una storia costellata da tanti successi che ha intuito fin dall'inizio che c'era necessità di trasformare un'attitudine artigianale attraverso la formazione in una proposta artistica importante che ha fatto sì che le opere degli allievi della scuola siano in giro per tutto il mondo. C'è stato un momento, alla fine degli anni Ottanta, in cui la scuola era in difficoltà e una legge regionale individuandone proprio la forza e l'importanza è intervenuta e in qualche modo ha fatto sì che la scuola continuasse nelle sue attività e oggi arriva a 600 anni, essendo un riferimento non solo per la nostra regione ma per tutto il mondo sull'arte musiva. La scuola mosaicisti ha fatto tantissima strada in questi 100 anni e continua a essere questo punto di riferimento internazionale per tanti giovani che continuano a venire in Friuli Venezia Giulia, continuano a venire a Spilimbergo perché Spilimbergo è l'unica scuola al mondo dove ci si può diplomare maestri mosaicisti. Quindi abbiamo questi allievi che sono tutti maggiorenni, ricordiamoci, tutti diplomati in una scuola media superiore e tanti anche laureati che appunto vengono per diventare maestri mosaicisti proprio nella nostra regione. Tra poco le notizie sportive, in apertura la sfida dell'Udinese contro la Juventus ma si parlerà anche di calcio dilettanti perché c'è il passo indietro della medicina sportiva, ritorna l'incubo della visita per i positivi a 30 giorni così per le società del mondo dei dilettanti si prospettano enorme difficoltà per la prosecuzione dei campionati. Se ne parlà tra poco a Sport e FWG, grazie per l'attenzione e buona serata con i programmi di Telefriuli. Grazie per la visione!